Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con un soggetto rimasto ignoto e lo ha deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti delle volanti transitando per via Murifabbro hanno notato un andirivieni di persone verosimilmente acquirenti di stupefacenti. Gli agenti hanno quindi effettuato un controllo all'interno dello stabile interessato individuando un soggetto che alla vista della polizia ha tentato la fuga. Una volta bloccato ha opposto una strenua resistenza favorendo così la fuga di un complice rimasto ignoto. Con l'ausilio di altro personale gli operatori hanno proceduto a un controllo all'interno dell'edificio e dopo l'identificazione dei diversi assuntori presenti hanno rinvenuto sia droga che materiale dalla dubbia provenienza. Sono stati infatti ritrovati 5 televisori, vari pezzi di ricambio di diverse auto, 36 grammi di marijuana suddivisa in dosi e un grammo di cocaina. Dopo l'arresto il PM ha disposto di sottoporre l'uomo alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.